Avrebbe incassato due milioni di euro in tre anni, non solo li avrebbe guadagnati, si fa per dire, ingannando due pensionati, ma non li avrebbe mai dichiarati al fisco. Ora un ex bancario vicentino sarà chiamato davanti ai giudici per evasione. L'uomo è già finito a processo per le vicende che riguardano i due anziani raggirati, uno incapace di intendere cui avrebbe portato via tutti i risparmi di una vita, l'altro cui avrebbe promesso investimenti per poi tenersi in tasca al denaro. Ora il nuovo procedimento a fronte delle fasulle dichiarazioni dei redditi che l'ex bancario aveva fatto praticamente pari a zero.